Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato. È questa l'indiscrezione bomba arrivata dal noto esperto di gossip, il quale ci rivela quanto sia seria la frequentazione tra i due Pare che sia noto anche il suo nome, e quando verrà presentato ufficialmente Il rumor risveglia l'interesse dei fan di Chiara e apre le porte di un nuovo capitolo d'amore per l'imprenditrice digitale, separata da qualche mese dal rapper Fedez Vediamo insieme tutti i dettagli. Nuovo capitolo da single per i Ferragnez. Cosa succede ora? Chiuso il capitolo con l'ex marito Fedez, Chiara Ferragni sembra pronta per guardare avanti e pare che nell'aria possa già esserci un nuovo fidanzato Negli ultimi mesi dopo la rottura, il rapper sembra aver gestito la vita da single lanciandosi nuovamente in pista Varie testate lo hanno pizzicato in compagnia di alcune bellissime ragazze, e da lì erano nati i vari rumors sulle nuove frequentazioni Tra tutte ricordiamo il presunto flirt con la modella francese Garance Othier, con cui il cantate è stato fotografato mano nella mano Chiara Ferragni invece è stata più riservata e ha gestito in modo diverso la fase post-separazione Non sono mancate notti sbarazzine in discoteca, ma l'influencer sembra essersi dedicata più agli amici e alla famiglia che non ha nuove frequentazioni Forse però, Chiara stava solo aspettando la persona giusta prima di dare in pasto ai paparazzi un nuovo capitolo della sua vita Vediamo cosa è emerso negli ultimi giorni, Chiara Ferragni felice in vacanza Come possiamo vedere dai social, Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive in diverse località e attualmente si trova a Miconos insieme ai figli Leone e Vittoria Anche Garance Othier, flirt dell'ex marito Fedez, ha scelto come meta proprio l'isola greca, ma Ferragni non appare turbata dalla possibilità di incontrare la modella francese Da cosa deriverà questa spensieratezza? Che Chiara stia vivendo un nuovo idillio con un fidanzato, o perlomeno, con un nuovo flirt? Il rumor sul nuovo fidanzato, quando lo presenterà, secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Chiara Ferragni, come Fedez, sta godendo della sua estate da single, la prima dopo il matrimonio e l'arrivo dei figli Per quanto riguarda Chiara Ferragni sì, è vero, si sta frequentando con un uomo Ha confermato Rosica aggiungendo poi altri dettagli non c'è nulla di male, è single come Fedez Ovviamente lei è più riservata e contenuta, e non ha gli ormoni a 500.000 Se tutto va bene usciranno allo scoperto a Natale, lui ormai frequenta anche la famiglia Ma chi è questo uomo misterioso? L'ipotesi di D'Agospia, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni? Dopo i rumors sui flirt con Tony F., successivamente smentiti dal rapper, e poi con Andrea Bisciotti, pare che ora l'imprenditrice digitale sia impegnata in una frequentazione seria Il nuovo flirt sarebbe con l'imprenditore Silvio Campara, CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose Secondo D'Agospia, Chiara Ferragni e Silvio Campara si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi durante una delle recenti vacanze dell'influencer in Versilia Il Corriere della Sera riporta che l'incontro Galeotto è avvenuto all'inaugurazione di un concept store del brand diretto da Campara, da cui sarebbe nata una profonda amicizia Silvio Campara, classe 1979, è nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona Ha iniziato la sua carriera come modello e, dopo la laurea in economia alla Bocconi, è rimasto nel mondo della moda, ma lontano dalle passerelle Ha lavorato come commesso per Alexander McQueen, poi si è occupato di commerciale da Giorgio Armani, infine è entrato in Golden Goose, dove è diventato CEO Vedremo se la frequentazione è abbastanza seria da ricevere una conferma ufficiale dai diretti interessati Ad ogni modo, i fan di Chiara Ferragni sembrano ben contenti di vederla sorridere e se nell'equazione c'è anche un nuovo fidanzato tanto meglio Ad ogni modo, i fan di Chiara Ferragni sembrano ben contenti di vederla sorridere e se nel'euro